Il signor My Standing, qui parla a Sevilla. Ah, sì, sì, il signor Derwent mi ha avvisato. Vuole che venga subito da lei o vuole venire qui in ufficio? No, preferirei attenderla qui. Va bene, allora venire lontane. Un taxi, dice? Una passeggiata di cinque minuti. Derwent mi dice che è una passeggiata di cinque minuti. Allora mi conviene a piedi. Lei abita in Garden Street 5, vero? Sì, terzo piano. Grazie, l'aspetto. Vieni a piedi. Sevilla. Rinunci a Betty Aldanaro. Ma è impazzito? Non c'è niente da fare. Se non paga... Vede questo passaporto? Sa per quali paesi è stato fatto? Questa è la sua ultima parola, Sevilla. Perché adesso sta per pagare tutte le mascalzonate che ha fatto. Non faccia l'idiote. Non faccia l'idiote. Non faccia l'idiote.